Alessandra Amoroso è nata il 12 agosto 1986 a Galatina, da padre di Alessano e madre di Otranto e cresciuta a Kesho a Lecce. Fin da giovane ha partecipato a numerose competizioni locali. Nel giugno 2007 ha vinto la seconda edizione del concorso pugliese Fiori di Pesco. A 17 anni ha partecipato ai provini per il talent show Amici di Maria De Filippi, ma è stata scartata dopo aver superato diverse audizioni. È riuscita ad entrare nel programma nella sua ottava edizione. Il suo primo singolo è stato Immobile, che ha raggiunto la prima posizione nella classifica dei singoli italiana e ha ottenuto la certificazione di disco di platino dalla Fimi. Il 14 gennaio 2009 è entrata nella fase serale di Amici di Maria De Filippi e il 25 marzo 2009 è stata proclamata vincitrice, aggiudicandosi il primo premio di 200.000 euro e il premio della critica, una borsa di studio del valore di 50.000 euro. Il 27 marzo 2009 è stato pubblicato il suo secondo singolo, Stupida, che ha raggiunto la vetta della classifica dei singoli in Italia. Ha anticipato l'uscita del suo primo EP, anch'esso intitolato Stupida, pubblicato il 10 aprile 2009 sotto l'etichetta Sony Music. L'EP ha ottenuto un grande successo, diventando disco d'oro grazie ai preordini e successivamente triplo disco di platino per le oltre 180.000 copie vendute. Durante gli annuali Win Music Awards del 19 settembre 2009, Alessandra ha ricevuto due dischi multiplatino per le vendite dell'EP. La canzone Stupida ha anche avuto una cover in lingua spagnola da parte della cantante La India, intitolata Estupida. Nel corso del 2009, Alessandra Amoroso è stata impegnata con il Stupida Tour e ha partecipato a vari spettacoli musicali, inclusi eventi come Amici, la sfida dei talenti e il concerto di beneficenza Amiche per l'Abruzzo, organizzato da Laura Pausini per aiutare le vittime del terremoto dell'Aquila del 2009. Il 25 settembre 2009, Alessandra Amoroso ha pubblicato il suo album di debutto intitolato Senza nuvole, disponibile in edizione standard e speciale con un DVD aggiuntivo. L'album è stato anticipato dal singolo Estranei a partire da ieri, trasmesso in radio a partire dalla fine di agosto. Il 3 ottobre dello stesso anno, Amoroso è stata ospite a Lampedusa durante la manifestazione OSHA di Claudio Baglioni. L'8 ottobre 2009 ha presentato per la prima volta dal vivo l'album al Limelight di Milano, con un evento cui hanno potuto partecipare i vincitori di vari concorsi, promossi da Radio Kiss Kiss, Fornarina, MTV e dal Fansblog, oltre che dalla Sony Music stessa tramite l'open disc contenuto nell'album. I fan hanno potuto vedere il concerto in diretta via satellite in 37 cinema selezionati in Italia, trasmesso in alta definizione. Successivamente l'evento è stato riproposto il 20 dicembre 2009 su Italia 1, ottenendo un buon share del 10%. Senza nuvole ha debuttato alla vetta della classifica degli album Fimi, mantenendo questa posizione per quattro settimane consecutive. Il secondo singolo estratto dall'album è stato la title track Senza nuvole, che è stata certificata disco di platino e è stata inclusa nella colonna sonora del film Amore 14 di Federico Moccia. Nel mese di novembre Alessandra Amoroso ha affiancato Gianni Morandi nella conduzione di Grazie a tutti, un varietà in quattro prime serate, trasmesso su Rai 1. Insieme a Morandi ha registrato il duetto Credo nell'amore, presente nell'album di Morandi Canzoni da non perdere. Con l'inizio del Senza nuvole live tour, il 22 gennaio 2010 è entrato in rotazione radiofonica il terzo singolo dall'album Mi sei venuto a cercare tu. Durante il festival di Sanremo 2010, Amoroso ha calcato il palco del teatro Ariston duettando con Valerio Scanu nel brano per tutte le volte che... Il 2 aprile 2010 è stato estratto il quarto singolo dall'album Arrivi tu. Nell'estate del 2010, Alessandra è stata impegnata con l'Unestate Senza nuvole live tour, un tour promozionale dell'album Senza nuvole, che è stato certificato quattro volte disco di platino dalla Fimi per le oltre 240.000 copie vendute in Italia. Il 1 settembre 2010, Alessandra Amoroso ha pubblicato il singolo La mia storia con te, scritto da Marco Ciappelli, Saverio Grandi, Angelo Santi e Campedelli, che è stato il singolo apripista dal suo album di inediti Il mondo in un secondo, uscito il 28 settembre 2010 per la Sony Music. Questo album ha raggiunto la prima posizione della classifica italiana degli album ed è stato certificato quattro volte disco di platino per le oltre 200.000 copie vendute. Il singolo è stato scelto anche come colonna sonora della Fiction, La figlia di Elisa II. Nel novembre 2010 è uscito il secondo singolo dall'album Urlo e non mi senti. Subito dopo è iniziato il Il mondo in un secondo tour, che ha avuto due date nel dicembre 2010, di cui una trasmessa su Italia 1 il 25 dicembre, e il resto delle date sono iniziate nel marzo 2011. Durante il tour è stato lanciato il terzo singolo dall'album Niente. Successivamente, il 20 maggio 2011, è stato estratto il quarto singolo, Dove sono i colori? Alessandra è stata premiata ai Wind Music Awards 2011 per le vendite dell'album Il mondo in un secondo. Il 23 settembre 2011, durante una ospitata ai migliori anni, è stato annunciato che a dicembre sarebbe uscito un album dal vivo contenente anche 5 inediti. Il 4 novembre 2011 è stato pubblicato il singolo inedito È vero che vuoi restare, che ha anticipato l'album dal vivo 5 passi in più, distribuito a partire dal 5 dicembre e che ha raggiunto la seconda posizione della classifica italiana. Il 20 gennaio 2012 è stato pubblicato il secondo singolo dall'album dal vivo Ti aspetto. Nello stesso periodo è stata annunciata la partecipazione di Alessandra Amoroso come ospite durante la serata dei duetti del festival di Sanremo 2012, duettando con Emma nel brano Non è l'inferno. Questa versione è stata anche inclusa nella riedizione dell'album di Emma Sarò Libera, uscita il 15 febbraio 2012. Alessandra ha ricevuto una nomination ai Nickelodeon Kids Choice Awards 2012 nella categoria Miglior Cantante Italiano. Il 31 marzo 2012 Alessandra Amoroso è tornata ad Amici di Maria De Filippi per partecipare ad una sfida articolata in nove puntate insieme ad altri volti noti usciti. dal talent show. Durante il programma ha presentato il singolo Ciao, estratto dalla riedizione dell'album Cinque Passi in Più, pubblicata il 22 maggio 2012 con il titolo Ancora di Più, Cinque Passi in Più, contenente tre ulteriori inediti. Questa riedizione ha raggiunto la vetta della classifica italiana. Sempre nel maggio 2012 Alessandra è stata premiata ai Wind Music Awards per le vendite dell'album. Nel 2012 è stata la vincitrice della categoria Big del Serale dell'undicesima edizione di Amici di Maria De Filippi, ottenendo così il premio di un concerto gratuito presso l'Arena di Verona che si è tenuto il 5 settembre ed è stato trasmesso su Canale 5 il 6 settembre. Durante il concerto sono stati presenti ospiti come Pino Daniele, Fiorella Mannoia, Marco Carta e Anna Lisa. Alessandra ha continuato ad essere attiva nei concerti e nelle manifestazioni musicali, consolidando la sua carriera nel panorama della musica italiana. Il 13 aprile 2013 Alessandra Amoroso ha partecipato come ospite alla terza puntata della dodicesima edizione del Serale di Amici di Maria De Filippi, dove ha duettato con la concorrente Greta Manuzzi e ha annunciato l'uscita del suo nuovo album prevista per il mese di settembre dello stesso anno. Il 11 maggio 2013 si è esibita insieme ad altri artisti a Milano in Piazza Duomo in occasione di un concerto organizzato da Radio Italia. Il 27 maggio 2013 attraverso un comunicato su Facebook ha annunciato che il suo nuovo album sarebbe stato prodotto da Tiziano Ferro. Il 16 agosto 2013 ha confermato che l'album sarebbe stato intitolato Amore Puro e sarebbe stato pubblicato il 24 settembre dello stesso anno. Il singolo omonimo è uscito il 30 agosto, debuttando alla posizione numero 4 della classifica Fimi e ottenendo la certificazione di disco di platino. Amore Puro, l'album, è stato pubblicato il 24 settembre 2013 ed è stato certificato disco d'oro a ottobre per le oltre 30.000 copie vendute. Successivamente ha ottenuto il doppio disco di platino per aver superato le 100.000 copie vendute. Il 29 ottobre 2013 è stato pubblicato l'album Tributo a Lucio Dalla di Fiorella Mannoia intitolato A te, che include un duetto tra Fiorella Mannoia e Alessandra Amoroso nel brano La sera dei miracoli. A dicembre dello stesso anno Alessandra ha intrapreso il turo omonimo nei palazzetti italiani. Il 15 novembre 2013 è stato lanciato in radio il secondo singolo, Fuoco d'Artificio. Il 31 dicembre 2013 si è esibita al concerto di Capodanno in piazza Salerno. Il 15 febbraio 2014 ha presentato ad Amici di Maria De Filippi il terzo singolo estratto dall'album Non devi perdermi, che è stato successivamente certificato disco d'oro dalla Fimi. Il 3 maggio 2014 ha eseguito l'inno di Mameli prima della finale di Coppa Italia 2013-2014. Successivamente, dopo la partecipazione di Francesco Renga al Festival di Sanremo 2014, è stato pubblicato l'album del cantante intitolato Tempo Reale, che include un duetto con Alessandra Amoroso dal titolo L'amore altrove, pubblicato come singolo il 9 gennaio 2015. Il 19 maggio 2014 ha tenuto il suo concerto evento all'Arena di Verona intitolato Alessandra Amoroso in amore puro, registrato sotto la produzione e la regia di Roberto Cenci e trasmesso il 30 luglio 2014 su Canale 5, ottenendo un buon successo di pubblico. Il 21 giugno 2014, Alessandra ha vinto il premio Wonder Woman agli MTV Awards 2014, superando altre candidate di fama internazionale come Katy Perry, Laura Pausini e Miley Cyrus. Nello stesso mese ha partecipato al Summer Festival, dove ha vinto durante la terza serata con Non Devi Perdermi. Sempre nel giugno 2014 ha pubblicato il quarto estratto da Amore puro, bellezza, incanto e nostalgia, che è stato certificato disco d'oro per aver venduto oltre 15.000 copie. Il 24 ottobre 2014 è stato pubblicato il quinto singolo estratto dall'album L'hai dedicato a me. L'11 dicembre 2014 ha preso parte a una tappa del tour di Pino Daniele e ha partecipato alla ventitemisimo edizione del concerto di Natale nella città del Vaticano. Il 16 settembre 2014 Alessandra Amoroso ha vinto la quinta nomination come Best Italian Act agli MTV Europe Music Awards 2014, superando gli altri nominati attraverso una votazione sui social media via Twitter. Il premio è stato assegnato il 23 ottobre dopo aver battuto artisti come Caparezza, Club Dogo, Amy Schilla e Georgia. Successivamente ha concorso come Best Europe South Act, vincendo il 30 ottobre e rappresentando il Sud Europa come finalista per il premio World Wide Act agli MTV EMA, che è stato vinto dall'artista cinese Bibi Joe durante lo show a Glasgow il 9 novembre. Il 22 gennaio 2015 Alessandra ha annunciato l'uscita del libro A mio modo vi amo, scritto da lei e che raccoglie racconti e pensieri dai suoi fan. Pubblicato il 10 marzo, il libro ha ottenuto un enorme successo commerciale, raggiungendo i vertici delle classifiche letterarie e andando in ristampa in meno di un mese per la forte domanda. Nei primi giorni di febbraio 2015 ha raggiunto due importanti traguardi. 100 milioni di visualizzazioni sul suo canale Vevo e oltre un milione di copie vendute, ottenendo così 16 dischi di platino per gli album pubblicati in poco più di cinque anni di carriera. Questi risultati sono stati paragonati a quelli di artisti internazionali. Il 18 aprile 2015 ha duettato con Stash dei The Colors nel singolo Me Minus You nel programma Amici di Maria De Filippi. Il 14 giugno dello stesso anno ha vinto il premio Wonder Woman agli MTV Italia Awards 2015, superando altre candidate di rilievo. Il 21 giugno si è esibita a Torino di fronte a Papa Francesco interpretando l'inno ufficiale del raduno dei giovani composto appositamente per la visita papale. Il 28 luglio 2015 è stato pubblicato il singolo A tre passi da te del gruppo Reggae Boomdabash in duetto con Alessandra, che è stato certificato disco d'oro. Il giorno successivo, il 29 luglio 2015, Alessandra ha affrontato un intervento per due noduli alle corde vocali, procedura che è stata un successo. Il 15 maggio 2015 è stato pubblicato il primo singolo in lingua spagnola di Alessandra Amoroso, intitolato Grito in nome escucias, una versione tradotta del brano Urlo e non mi senti, scritto da Checco dei Modà e incluso nell'album Il mondo in un secondo. Il singolo ha ottenuto successo soprattutto in Messico, entrando nella classifica dei brani in spagnolo più trasmessi dalle radio del paese. Successivamente, con un comunicato stampa di Sony Music Espagna, è stato annunciato che il primo album in lingua spagnola dell'artista italiana sarebbe stato auto-intitolato e sarebbe stato pubblicato il 18 settembre 2015. Questo album, prodotto da José Luis Pagan, contiene 12 dei maggiori successi di Alessandra adattati in spagnolo, oltre a un singolo inedito appositamente registrato per il progetto. Il secondo singolo estratto dall'album, intitolato Me Siento Sola e cantato in duetto con Mario Dom dei Camila, è stato pubblicato il 30 luglio 2015. Questo singolo ha ottenuto successo radiofonico soprattutto in Spagna e Messico, raggiungendo la sesta posizione nella classifica dei brani spagnoli più trasmessi in Messico e rimanendo nella top ten per nove settimane consecutive. L'album ha debuttato alla posizione 31 in Spagna e ha mantenuto una buona performance nelle classifiche per diverse settimane. Nel mese di novembre, Alessandra ha intrapreso un tour promozionale in America Latina, partendo dalla Costa Rica e arrivando fino agli Stati Uniti, dove si è esibita in diretta televisiva per la prima volta. Ha proseguito il tour promozionale in Messico e Argentina, apparendo su radio e televisione. Il terzo singolo ufficiale estratto dall'album, Este Amor lo Vale, è stato annunciato il 22 gennaio 2016, continuando il successo dell'album anche dopo la sua pubblicazione. Il 7 novembre 2015, Alessandra Amoroso ha presentato per la prima volta il singolo Stupendo Fino a Qui, durante la sua partecipazione al programma televisivo Tu Si Que Vales. Il singolo è stato lanciato in rotazione radiofonica il 13 novembre e reso disponibile per il download gratuito sulla sua pagina Facebook. L'11 dicembre dello stesso anno, Alessandra ha annunciato il suo quarto album in studio, intitolato Vivere a colori, che è stato pubblicato il 15 gennaio 2016. Prima dell'uscita ufficiale, l'album è stato disponibile in pre-order su iTunes a partire dall'8 gennaio 2016. Già nelle prime 12 ore, le anteprime delle tracce Stupendo Fino a Qui, La vita in un anno e Il mio stato di felicità hanno raggiunto la vetta della classifica iTunes occupando le prime tre posizioni. Il 14 e 19 gennaio 2016, Alessandra ha presentato in anteprima l'album durante eventi a Milano e Lecce, rispettivamente. Durante questi eventi, supportati dai suoi fan, ha trasformato le piazze in esplosioni di colori, celebrando insieme la musica di Vivere a colori. L'album è stato un grande successo già nel primo giorno di pubblicazione, debuttando direttamente al primo posto su iTunes in Italia, con tre tracce dell'album nella top 3 della piattaforma. Ha anche ottenuto successo internazionale, entrando nelle top diente di iTunes in paesi come Estonia, Malta e Svizzera, e nelle top 100 in Belgio, Slovenia, Germania, Messico, Lettonia, Bulgaria, oltre a posizionarsi nelle top 200 in Austria, Ecuador, Spagna e Irlanda. Vivere a colori ha raggiunto la prima posizione nella classifica degli album più venduti in Italia, continuando il record della cantante di avere tutti i suoi album studio debuttati al primo posto. A gennaio 2016 l'album si è classificato al 18do posto nella classifica degli album più venduti a livello mondiale, mentre nel novembre dello stesso anno è stato certificato doppio disco di platino dalla Fimi per aver venduto oltre 100.000 copie in Italia. Nel 2018 ha ottenuto la certificazione di triplo disco di platino per aver superato le 150.000 copie vendute. Il 26 febbraio 2016 è stato pubblicato il secondo singolo estratto dall'album Comunque Andare, che è stato certificato quadruplo disco di platino. Successivamente, nel giugno 2016, è stato estratto come terzo singolo l'omonimo Vivere a colori. Alessandra Amoroso ha continuato a ottenere riconoscimenti, diventando la quinta artista femminile più ascoltata su Spotify in Italia nel 2016, entrando nella top 50 della classifica internazionale Social 50 di Billboard, che misura il successo degli artisti sui social media. Il 18 maggio 2018, Alessandra ha pubblicato il singolo Due Destini, in collaborazione con Federico Zampaglione dei Tiro Mancino, per celebrare il 18 anniversario dalla sua uscita. Il 5 ottobre 2018, Alessandra Amoroso ha pubblicato il suo sesto album in studio intitolato Dieci, scelto per celebrare i dieci anni di attività da solista della cantante. Prima dell'uscita dell'album, sono stati pubblicati i singoli La stessa e Trova un modo. Nella prima settimana dalla pubblicazione, l'album ha ottenuto la certificazione Disco d'Oro per aver venduto oltre 25.000 copie. Il 4 gennaio 2019, Alessandra ha pubblicato il terzo singolo estratto dall'album, intitolato Dalla tua parte. Il mese successivo è stata ospite al 60-tennevo Festival di Sanremo, dove ha ricevuto una standing ovation per la sua interpretazione di Io che non vivo senza te, insieme a Claudio Baglioni. Il 5 marzo 2019 è iniziata la tournée nazionale relativa all'album Dieci. Il 29 marzo dello stesso anno è stato pubblicato il quarto singolo, Forza e Coraggio. Ad inizio giugno è stato pubblicato il singolo Mambo Salentino, inciso dai Boom da Bash, in collaborazione con Alessandra Amoroso, che è stato certificato triplo disco di platino. Il 23 giugno 2019, Alessandra ha annunciato di prendersi una pausa a tempo indeterminato dal mondo della musica per dedicarsi alla sua vita privata. Tuttavia, il 20 dicembre dello stesso anno ha sorpreso i suoi fan pubblicando una nuova versione del suo grande successo, Immobile, intitolata Immobile 10 Plus 1, in occasione dei suoi dieci anni di carriera. Nel 2020, Alessandra Amoroso ha collaborato nuovamente con i Boom da Bash per il singolo Karaoke, pubblicato il 12 giugno e incluso nella loro raccolta Don't Worry, Best of 2005-2020. Il 15 gennaio 2021 è uscito il singolo Pezzo di Cuore, realizzato insieme a Emma e incluso nella raccolta Best of Me. Nel 2021, il 7 e l'8 aprile, sono stati pubblicati i singoli Piuma e Sorriso Grande, presentati durante un concerto live streaming di Alessandra Amoroso a Roma. Il 3 settembre dello stesso anno è uscito il singolo Tutte le volte, seguito dall'uscita dell'album Tutto accade il 22 ottobre. Il quarto singolo estratto dall'album è stato Canzone inutile, pubblicato il 12 novembre. Nel corso del 2022, Alessandra ha pubblicato digitalmente i singoli inediti Camera 209 e Notti Blu, inclusi successivamente nella riedizione digitale dell'album Tutto accade. Per promuovere l'album ha intrapreso una tournée promozionale che ha culminato con il concerto evento Tutto accade a San Siro, allo stadio Giuseppe Meazza di Milano, diventando la seconda artista femminile a esibirsi in uno stadio dopo Laura Pausini. Il 11 giugno 2022, Alessandra Amoroso ha preso parte al concerto Benefico contro la violenza sulle donne, Una, Nessuna, Centomila, al Campovolo di Reggio Emilia, insieme ad altre artiste italiane di spicco. Nel 2024 ha partecipato al Festival di Sanremo con il brano Fino a Qui, classificandosi al nono posto nella serata finale. Successivamente, il 8 maggio 2024, ha partecipato alla riedizione di Una, Nessuna, Centomila in Arena, e ha pubblicato il singolo Mezzorotto, in collaborazione con Big Mama, alla fine di maggio dello stesso anno. Nel 2017, Alessandra Amoroso ha iniziato una relazione con il produttore discografico Stefano Settepani, che è terminata nel dicembre 2019. Nel 2023 si è legata al tecnico del suono Valerio Pastore. Dal punto di vista musicale, Alessandra è nota per un sound principalmente pop, con influenze dalla musica afroamericana. La sua voce è spesso descritta come sabbiata o con una tonalità nera, con Luca Jurman che ha paragonato la sua timbrica a quella di Anita Baker. Tra le sue influenze musicali dichiarate, Anastasia è un punto di riferimento importante per Alessandra, che ammira la capacità di Anastasia di essere una donna bianca con una voce nera. Altre influenze includono Aretha Franklin nel panorama internazionale e Mina per quanto riguarda la musica italiana.